Può essere una bella partita del campionato italiano perché si ritrovano contro due squadre che possono fare un buon calcio ma che in questo momento hanno differenti problemi. Ma che entrambe hanno delle buone potenzialità per esprimersi bene e ritrovare continuità di gioco e risultati. Questo vale più per noi perché siamo una squadra abbondantemente nuova e diversa mentre per quanto riguarda il Palermo che nelle ultime settimane ha ritrovato anche una buona qualità di gioco perché nelle ultime gare ha prodotto anche delle buone occasioni da gol e le ha sfruttate poco a parte l'ultima però come ho detto prima sono due squadre che possono venirne fuori alla distanza.